appena segnato alexis sanchez il 4 a 2 io voglio solo capire che cosa ho fatto di male ma perché bisogna soffrire anche in casa contro l'empoli ad un certo punto sia benedetto mio figlio che quando stavo veramente depresso amareggiato mi fa papà non ti preoccupare la vincete 4 a 2 che sia benedetto domani questo fine settimana gli compro il regalo più bello gli dico cosa vuoi a papà te lo compro ma ritornando alla partita un approccio completamente sbagliato sembrava un deja vu un film già visto come la partita contro il sassuolo sarà stato che oggi a milano c'era un tempo che sembrava più autunnale o invernale pioggia grigio e più grigio di così chi ti segna dopo 5 minuti pinamonti che anche in prestito all'empoli quindi non ve ne venite dicendo a che avevo sentito sarà un amichevole una scampagnata andrea soli regalerà i tre punti a simone inzaghi no no lì c'è un errore clamoroso proprio di lettura dell'inter perché cioè se l'empoli neanche il barcellona di messi xavier niesta costruzione dal basso una palla sulla destra un cross sul centro anche screener che secondo me si fa anticipare da pinamonti non so come dopodiché l'empoli aveva segnato anche 2 a 0 ma è stato richiamato un fuorigioco di partenza credo proprio di pinamonti che aveva fatto un assist per un suo compagno altrimenti dopo nove minuti eravamo già sotto 2 a 0 poi l'inter secondo me troppa frenesia troppo troppa voglia ogni giocatore sembrava volerla risolvere da solo c'era confusione passaggi anche all'inizio corre l'autaro secondo me proprio non non lo so non comunicavano e dal nulla dopo che all'inizio c'era stato dato un rigore per un fallo su barella poi l'arbitro è stato giustamente richiamato dal var l'intervento di parisi e prima sul pallone quindi giusto non assegnare il calcio di rigore dopodiché l'empoli un rilancio da da non lo so dalla propria metà campo bucano completamente devrai proprio questa stagione è irriconoscibile senza antonio conte non lo so e non è non c'è più lì con la testa non c'è c'è lui che è il centrale di difesa deve guidare deve dare serenità ok che bravo impostare ok che tecnicamente è meglio di skriniar però secondo me quest'anno quando skriniar ha giocato da centrale abbiamo sofferto di meno lui viene bucato e anche andanovic si lascia passare il pallone sotto le gambe segni un giocatore dell'empoli di cui neanche ricordo il nome ma il primo gol in serie a notte fonda io completamente depresso veramente non sapevo sembrava tutti qua mi sembrava il deja vu di italia macedonia quando tutti davano per scontata la vittoria dell'italia nello spareggio e sì chi giocheremo con chi giocheremo contro il portogallo ma mai di regatto se non ce l'hai nel sacco come diceva il grandissimo giovanni trapattoni dopodiché al rembaggio dell'inter sulla sinistra perisic che serve di marco che sostituiva ancora bastoni fermo e box un cross al centro e romagnoli fa un autorete a quel punto sale l'intensità dell'inter c'è una protesta ma secondo me ripeto oggi c'erano come al solito vedo la partita subiti sport ci sono i commentatori inglesi e hanno detto che su perché lo so io vi aspetto al barco tutti quanti che verranno a dire a barella quando parte l'azione del 2 a 2 è un fallo lì al centrocampo no è un contrasto duro ma il metro di misura utilizzato oggi da manganilla è stato quello tant'è vero che credo non abbia neanche fischiato un'ammunizione ha fatto correre quindi palla sul filo del fuorigioco per cialanoglu che la mette di sinistro per la corrente l'autoro martinez che tira veramente una saetta che si infila praticamente con vicario battuto e il 45esimo minuto dopodiché abbiamo anche un'altra occasione su angolo ma vicario è straordinario su un tiro di perisic inizia il secondo tempo c'è una frenesia praticamente sembra l'inter contro il portiere dell'empoli perché vicario para tutto quando non riesce a parare lui si immolano altri suoi difensori e dopodiché ripeto anche in quel caso il commentatore inglese che è imparziale poi vabbè voi pensate sempre ai complotti pensate sì vabbè tutto scritto un biscottone screener va deciso in scivolata toglie palla di francesco avvia l'azione palla subarella che la mette al centro correa viene anticipato ma dopodiché l'autoro martinez può scagliare la palla in rete io come lui mi tolgo la maglia a casa e comincio a saltare come un pazzo viene ammonito e secondo me non l'avrei mai e poi mai tolto perché aveva un piede caldissimo geco oramai non segna neanche a porta vuota senza il portiere si è mangiato dei gol clamorosi poi quando non c'era di mezzo il portiere la palla è stata rispinta dal palo e per fortuna alexi sanchez che se la rideva palleggiava quando doveva andare a battere un calcio d'angolo io non lo so l'ha insaccata al nel proprio nell'ultimo dei quattro minuti di recupero assegnati dall'arbitro è una sofferenza pazzesca io lo dico per le mie coronarie per la mia salute non vedo l'ora che arrivi il 22 di maggio perché è una tensione uno stress tale non riesco davvero a reggerlo andando velocemente a parlare dei migliori in campo come al solito ivan perisic inesauribile su quella fascia infatti come fai a sostituirlo qualità quantità lui è l mvp di questa stagione l'autoro martinez idem oggi si è caricato la squadra sulle spalle ha fatto due gol importantissimi e anche barella mi è piaciuto tanto la dietro in difesa skriniar e devrai assolutamente no se giocano così le ultime due partite di campionato e la finale di coppa italia non ci siamo assolutamente dopodiché sulla destra dunfris un pochettino confusionario ho preferito darmian quando è entrato che ha fatto un'azione meravigliosa che ha avviato proprio il contropiede dove dzeko ha preso il il palo cialanogro e brozovic tantissima voglia però poca precisione rispetto al solito ogni tanto anche loro hanno perso un po troppi palloni adesso l'inter momentaneamente una partita in più rispetto al milan sale a 78 punti il milan la squadra di pioli giocherà domenica giorno della festa della mamma a verona secondo me io vi dico la mia io non riesco a immaginare come il milan possa perdere tutti a dire sì la fatal verona la fatal verona ma ripeto in questo momento il milan ha un grandissimo vantaggio quello che per segnargli è quasi impossibile hanno completamente blindato la difesa o il verona fa una partita perfetta comunque poi il verona sappiamo tutti che è una squadra che attacca quindi gli spazi li lascerà e soprattutto negli spazi i giocatori veloci del milan come leao e teo hernandez vanno a nozze vediamo quello che succede sarà comunque altre due settimane di fuoco tesissime però ragazzi così io non ce la faccio io il 6 luglio coppio 42 anni ci voglio arrivare a 42 anni quindi non mi stressate e non mi fate veramente palpitare come oggi pomeriggio con questo è tutto ci risentiamo alla prossima ancora forza inter fanno vedere 47 più 47 differenza reti 78 punti però secondo me purtroppo a noi è stata la fatal bologna altri che la fatal verona con questo è tutto vi auguro un meraviglioso fine settimana ci risentiamo o domenica sera o lunedì col consueto video riassuntivo di questa 36esima giornata di campionato alla prossima sempre solo forza inter ciao